buongiorno da jolly carava oggi vi presentiamo un jockey light siena 330 un veicolo su meccanica citroen 2240 cavalli con quattro posti omologati e quattro posti letto è un veicolo di una lunghezza di 5 metri 99 per una larghezza di 2 metri 32 con altezza di 2 metri e 90 presente un serbatoio dell'acqua potabile da 100 litri un serbatoio degli acque grigie da 100 litri un serbatoio di recupero delle acque nere a cassettina da 18 litri un riscaldamento truma combi 4000 diesel con un frigorifero da 142 litri il veicolo nella parte sinistra posteriore presenta un vano garage piccolino che può essere utilizzato per lo stivaggio entriamo nel veicolo troviamo subito di fronte a noi una grande minette con tavolo allungabile sono quattro posti per mangiare un frigorifero grande da 142 litri letto alla francese molto ampio sul lato posteriore con una misura di un metro e 36 per 2,96 cucina degli ampi cassettoni per lo stivaggio nella parte del posto di leone troviamo il bagno con la doccia separata un bagno molto ampio è una doccia molto grande nella parte anteriore troviamo il letto basculante singolo con le reti di protezione anti caduta letto elettrico letti ad oghe e abbassando la dinette possiamo fare un secondo letto singolo centralina comandi molto semplice controllo in generale l'interno con le varie luci livelli e altro e poi cp plus per l'accensione e lo spegnimento del riscaldamento e del boiler riscaldamento ricordiamo è a gasolio rivediamo insieme allora questo veicolo con pronta consegna presso la nostra concessionaria a Vigonza Giotty Lai Siena 330 sul Citroen 2 240 cavalli il veicolo presenta già degli accessori installati climatizzatore cabina ESP traction cruise control start stop airbag e passeggero predisposizione radio sospensioni rinforzate folderine sedili in tinta ha il serbatoio delle acque grigie riscaldato e co-inventato le zanzariera sulla porta della cellula doghe su tutti i letti paraurti verniciato luce esterna led e comando stufa combi cp plus ricordiamo la stufa è a gasolio fendi nebbia volante cambio in pelle accensione automatica dei fari e sensore pioggia tergine cristalli plancia tecno con inserti in alluminio maxi oblò sul cupolino porta due punti con finestra di chiesura centralizzata retrocamera con monitor una nuova pezzeria prestige letto basculante letto supplementare di nette e cerchi in lega un saluto da Jolly Caravan Vigonza Padova bia kim Grazie a tutti